Sì, 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 le flippe. Quando giri non riatterri. No, ti ammazzi semplicemente. Riatterri d'alice, no? Ma re, madre. Vedi, no? Eh, Fatima, mi bella. E oggi ho fatto la tiralava. No, vabbè. Non giro una volta la cammina. Ma che ti fai, c'è poi chissà, c'è da fai satti? No, non fai, cioè, no, 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 bellino, però mi ricordo bene se non mi diceva qualcosa. Ma io ti fai. Scorrere normale. Sì. A velocità normale bellino, se lo facessi a... Eh, certo, eh, fatti. Ecco, lasca l'inizio. Stavo a andare dritto. Vella! ah è fighissimo questo osso, madonna che bellezza oh capo casco ma capo casco ho fatto il salto se arrivava così cazzo bellino ora mi fermo moio hai fatto l'area di quanti schifo non c'è la rota non c'è la rota eh infatti dove si va? desto o sinistro? perché hanno il rio usare questo ai? ah no se lo sapevo c'è il salto quella oddio oddio sapevo ah oddio sa casca ah 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 Mi sarei chiuso il coso, ho già due giorni, ma uno bello, a un certo punto mi sono scappato le gambe, mi sono rimasto la pancia su il coso, ho detto ora muoio, ma proprio...